Carissimi amici, oggi torniamo nella serie di Poppy Playtime Oggi siamo qua con un video ricco di novità Ebbene sì, oggi andremo finalmente ad incontrare Aggy Waggy vivo Ma non solo, perché andremo pure a trovare i prigionieri nascosti della fabbrica Quindi caro Aggy, sei pronto a tornare qua su Poppy Playtime? Quindi nel frattempo siete qui sotto tantesimi like per supportare la serie e per supportare il canale E se vi piacciono questi tipi di video e questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale, attivate la camprellina Ma adesso direi di partire, cominciamo, mi metto pure le cuffie così posso sentire meglio Facciamo qua l'Hot Game, facciamo qua una partita Allora per fare tutto ciò utilizzeremo una mod che ci permette appunto di far comparire Aggy Waggy Il fatto è che comunque questa mod ce lo faccia comparire Significa che in realtà si trova qui da queste parti, si trova qui in giro Quindi per forza di cose la mod ci permette di trasportare questo Aggy Waggy e farcelo vedere qui davanti Però per prima cosa direi di azionare qui la leva Perfetto, guardate qua Tra l'altro con questa mod ho pure la possibilità di fare una cosa molto molto bella Guardate qua Ho la possibilità di illuminare l'intero scenario Cioè guardate qua proprio la mappa è illuminata totalmente Mettiamo qua il debug camera Così possiamo muoverci all'interno della fabbrica E guardate com'è Tutto illuminato Tutto quanto illuminato Così non c'è neanche più bisogno che io metta qua i pointlet Che ogni volta stare lì Ogni due passi a mettere questi pointlet Veramente non finivano più E non ce la facciamo più dopo un po' mettere sempre questi pointlet Allora vediamo pure qui intorno cosa c'è Già che ci siamo Vediamo se ci sono delle zone nascoste Allora Per il momento qui non compare la parte del Bay09 Non si trova qui da queste parti Però guardate chi c'è Ma questo è Mommy Long Legs Ma cosa ci fa la nostra cara mammina qui di lato Cosa ci fai cara mammina Perché sei di qua Poi qui possiamo notare il corridoio del prototipo Che arriva fin qua Questo l'abbiamo visto bene nei video scorsi Siamo proprio entrati qua dentro Purtroppo non compare il prototipo Non lo possiamo intravedere da queste parti Peccato mi sarebbe piaciuto vederlo Avrei tanto voluto vederlo Qui comunque possiamo notare che le pareti scendono ancora di sotto Segno che comunque qua Sotto sto pavimento si trova un altro piano inferiore Guardate qua come prosegue Guardate qua Spettacolare E qui intorno invece che cosa c'è Ah qui dove spawniamo noi Dove cominciamo il gioco C'è l'ultimo checkpoint Qui intorno invece possiamo notare il corridoio Dove noi scappiamo dalla nostra cara mammina Ah qui c'è quella stanza segreta che abbiamo visto nei video scorsi Ve la ricordate Ve la ricordate quando ci siamo arrivati Bellissimo Qui guardate anche Cos'è sta cosa? Ma che è sta cosa rossa? Sto pannello rosso C'è pure scritto 15 metri Ma cosa 15 metri? Ma 15 metri? Ma perché? Ma perché 15 metri? Ma qui ci sono varie mommy long legs Sparse per la mappa Qui ce n'è una Cosa ci fa qui mommy long legs? Non lo so Non ne ho idea Ah forse ho capito Spawn a questa acqua Quando noi dobbiamo scappare qui attraverso questo posto Vediamo pure qui che cosa c'è dentro questi condotti Ovviamente possiamo esplorarli meglio Tutto quanto illuminato Illuminato tutto quanto Bellissimo Ok qui c'è un'altra mommy long legs Che viene da queste parti E qui c'è il corridoio dove noi scappiamo Dove noi ce ne andiamo via Verso la libertà Verso la via d'uscita Spettacolare Bellissimo No seriamente Sto scoprendo tante cose Ci sono anche qua Delle scritte Guardate qua Ma quante ce ne sono Quante ce ne sono Ne hanno messo veramente un bel po' Arm block spells Ma perché? Ha il significato di queste scritte Magari potremmo scoprirlo in un prossimo video Qui c'è un'altra mommy Da questo lato Qui è pretente Quando spawna Quando noi Ce ne stiamo scappando via Qui invece che cosa c'è? Ah il forno Che finalmente possiamo notarlo meglio Qui c'è il buco gigante No bellissimo Spettacolare Qui c'è il coso Tutto quanto Cioè no Seriamente Adesso che possiamo vedere Tutto quanto illuminato È più bello Eccola qua La nostra cara mammina Che sbucca fuori Quando ritiriamo la leva Eccola qui Da dove esce fuori Cara mammina Però adesso avrete il momento Di far Comparire Agiwagi Come potete ben vedere qua Qui ci sono Delle mommy long legs Sparse per la mappa Vuol dire che comunque Proprio l'oggetto Mommy long legs Si trova qui nel gioco Attraverso la mod Noi siamo in grado di Teletrasportarci Agiwagi Vivo Qui in partita Se noi possiamo fare una roba del genere È perché di per sé Si trova da qualche parte Questo Agiwagi Non so ancora dove potremmo trovarlo Ma molto presto Lo troveremo Tagliamo qua il debug camera Tramite questa mod Se io premo il pulsante U Guardate chi compare Siete pronti a vedere Agiwagi 3 2 1 Ed eccolo qua E abbiamo trovato Agiwagi Ed eccolo qua Abbiamo trovato Agiwagi Su Poppy Playtime Posso pure farlo più grande Noi vi faccio vedere Perfetto Adesso proprio grandezza normale E qui c'è Agiwagi Su Poppy Playtime 2 Guardatelo qui Proprio qui davanti Eh potete vederlo pure voi Tra l'altro si sta muovendo Questo perché a quanto pare Agiwagi È ancora vivo È vivo il nostro caro Agi Infatti avevo pure visto nei video scorsi Che si è tipo rifugiato da qualche parte Bisogna vedere se in realtà È vivo perché è stato resuscitato dal prototipo Oppure perché è riuscito a scappare in qualche modo Lo scopriremo più avanti Lo scopriremo molto molto presto Posso mettere pure altre copie di Agiwagi Guardate qua Quante ce ne sono Ok allora mettiamone altre qui Guardate quanti Agiwagi Bellissimo E se tipo creassimo un esercito Per fermare Mombi Long Legs Un esercito di Agiwagi Secondo voi potrebbe fermarlo Proviamo a vedere Mettiamo tanti Agi qui davanti Quanti ce ne sono Quanti ne stiamo No cosa ho fatto con la mano Per sbaglio con la mod C'è anche la possibilità di toglierci le mani Per sbaglio mi sono tolto la mano blu Per fortuna Cioè funziona ancora Nel senso anche senza mano blu Cioè quella cosa lì la posso aprire Però dai peccato E adesso senza mano blu Ma dai Ma che roba Ma che roba Ok creiamo altri Agiwagi Li useremo per fermare Mombi Long Legs Secondo voi ce la faremo Secondo voi ce la faranno questi Agiwagi E fermare Mombi Long Legs Proviamo Andiamo a vedere Muoviamoci di qua Quindi direi di premere subito quel pulsante Ok Cara Mommi Adesso penserai di venirmi a prendere No Guardate No Ma quanto è grande Ma enorme È diventata enorme Su su apri apri È enorme E cosa Era enorme Scusa Cara Mommi Ma che ti è successo Ma è diventata piccolissima Ma era enorme prima Cioè avete visto pure voi Ma com'è che è diventata piccolissima Mommi Long Legs No veramente bellissimo Ma che cos'è ma non ci posso credere Cos'è Ma perché è diventata così Ma perché Cioè ah però aspettate Guardate qua Guardate Il prototipo Il prototipo più grande L'abbiamo visto piccolo L'abbiamo visto piccolo E adesso si è ingrandito Ma cosa Intanto qua ci sono i nostri Aggy Waggy Che si sono ingranditi Eccolo qua Aggy Waggy gigante Guardate qua Com'è Guardate qua Bellissimo Spettacolare Comunque Con questa mod Vai avanti personaggio Non ti bloccare Non ti bloccare Ho anche la possibilità Di far spawnare Mommi Long Legs Quindi anche se l'è stata eliminata Io posso farla tornare in vita Posso risuscitarla E adesso molto presto la vedremo Voglio pure far vedere qua I dipendenti della fabbrica Perché a quanto pare Noi possiamo farli pure comparire Adesso vi faccio vedere tutto quanto Con la speranza Che non mi crashi il gioco Perché questa è una mod Anche abbastanza pesante E mi è successo Più di una volta Che il gioco mi è crashato Apri qui la porta Ed ecco qua Siamo nella stazione Tutta quanta illuminata Illuminatissima sta stazione Bellissimo Beh che dire Direi di entrare subito lì sotto Andiamo a evoccare subito I nostri cari amichetti Quindi allora Come sempre Debug camera Scendiamo qui sotto Di corsa Dopodichè ci teletrasportiamo qua Teleport Vediamo se c'è teletrasportato bene Dove siamo finiti Dove sono? Ah ok E' qui di lato Sono qui di lato Che bello Siamo tornati qua Nella fabbrica Ma perché ho la mano In questo modo Guardate qua La mano com'è Ma non è che forse In questo modo Mi ingrandisce pure le mani Non lo so Guardate qua Come ho sta mano verde Ma perché? Ma perché sta mano così? Adesso niente Mi sono sparita direttamente Mi sono sparita direttamente Tutte due le mani Sono rimasto senza mani Sono un panino senza mani Ma perché? Da notare poi il filo del greppac blu Come si fa storto Vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere E' arrivato il momento Di far venire qua Guardate qui Aghi waghi E' qui davanti Caro aghi Come stai? Come stai? Nostro caro amichetto aghi Ma che roba Spettacolare Ce l'abbiamo proprio qui davanti Ma adesso Voglio pure comparire Gli altri personaggi Che qua Io voglio pure far vedere Qua i dipendenti Ad esempio Se io apriamo il pulsante 5 Guardate chi c'è Guardate qua davanti Che abbiamo Abbiamo Moby Long Legs Che pure è abbastanza gigante Devo dire che l'hanno fatta Bella grande Guardate qua Altri cloni Di Moby Long Legs Solo che questa volta Non solo come i cloni Precedenti Che abbiamo visto Nei video scorsi No Che io li La facevo comparire E restava lì ferma No Questa volta è proprio un clone Che si muove E' proprio viva Moby Long Legs A quanto pare Ancora viva Qui su Poppy Playtime Ma che roba Quindi siamo sicuri Che non l'abbiamo sconfitta Del tutto Mi verrebbe da pensare Che Moby Long Legs Verrà ripresa dal prototipo Dopodiché è resuscitata E diventerà parte sua Un po' come è successo Con Aghiwagi Che è molto prudente Ormai sarà diventata Una parte del prototipo Ma non solo Non solo Molti mi hanno fatto notare Che qua Quando noi sconfiggiamo Bonzovanni Qui quando finiamo Il musical memory Compare da queste parti Qui da queste parti Rimane appeso Bonzovanni Che poi sparisce Sparisce Non lo vediamo più Molto probabilmente Sapete perché Sparisce In realtà le cose Sono due O Bonzovanni Riesce a liberarsi Riesce a tornare in vita E se ne scappa Oppure La cosa differente È che magari Viene preso anche lui Dal prototipo Quindi anche lui Potrebbe diventare Parte del prototipo Ma che roba No Povero Bonzo Adesso voglio far vedere Qua interamente Questa stanza Che c'è scritto Proprio solo staff E vediamo dentro Che cosa c'è Proviamo a vedere Sì guardate In realtà C'eravamo già entrati Nei video scorsi No però Non si notavano Le pareti Adesso che abbiamo Tutto quanto illuminato Possiamo proprio vedere Che questa è una stanza Vera e propria Cioè questa qua È una vera e propria stanza Non c'è niente dentro Perché a quanto pare Gli sviluppatori Non hanno voluto Spoilerarci Cosa ci doveva stare Però a quanto pare Qua È una stanza Completa C'è proprio un qualcosa Qui dentro Poi qui ci sono Altre cose segrete Aspettate No veramente cos'è Un'altra stanza segreta Ma quante ce ne sono C'è da qui sopra Possiamo cedere delle stanze segrete Quante ce ne sono Ce ne sono tantissime Ce ne sono un sacco Sì però Mommy veramente Ma quanto fa rumore Quanto fa rumore Sta Mommy Adesso Togliamo qua il debug camera Ritorniamo qua In modalità normale Perché voglio farvi vedere Pure qua Guardate Abbiamo qui davanti Il giocatore Il giocatore Lo abbiamo qui Avete visto C'è presente Possiamo far comparire Mommy Longlegs Huggy Wuggy E il giocatore stesso Dopodiché possiamo Illuminarci Tutta quanta la zona Tutta quanta la mappa Dunque Io direi di fare una cosa Nei prossimi video Magari più avanti Riproverei E rifare di nuovo Poppy Prytine 2 Questa volta però Con tutta quanta L'illuminazione Perché fidatevi Ci sono altri segreti Che dobbiamo scoprire insieme Li dobbiamo scoprire E analizzare No seriamente È bellissima Sta mod C'è con tutti quanti qua Tra l'altro Potevo proprio dire Che Mommy Longlegs In questo caso Diventa nostra amica C'è nostra amica Perché Non ci fa più nulla È diventata amica nostra Bellissima Cara mammina Cara mammina Sei contenta Di essere tornata in vita Ti ho riportato in vita Ed è qua infatti Pronta per inseguirci Voglio dire meglio qua Aspettate Con il debug camera Che cosa c'è Qui intorno Cioè Possiamo proprio notare Il greppac Come è fatto Come si tiene Quindi il personaggio Tiene il greppac Con due mani Gira in questo modo E usa le altre mani Cioè È una sorta di pistola No Che uno Schiaccia il coso Schiaccia il grilletto E la mano si tira in avanti Bellissimo Spettacolare Vorrei tanto averne uno Di greppac Vorrei veramente averne uno Qui ci sono gli aggi wagi Ma che roba Allora E infine Voglio pure per vedere Un'ultima cosa Tramite l'illuminazione Guardate qui Che cosa potevo notare Delle rotaie segrete C'è una nuova zona segreta Di poppy playtime Qui ci sono proprio le rotaie Una stazione segreta E qua Cos'è sta cosa qua Illuminata No no Voglio andare a vedere Che è sta cosa Un oggetto Cos'è Ma perché mi rimane Sto coso qua Vabbè E ci sono cose volanti Che rimangono Nella mappa Questa è una stazione segreta Con doppio binario Addirittura Uno sopra E uno sotto È bellissima sta cosa Chissà cosa può significare Chissà come mai Gli sviluppatori Hanno voluto aggiungere Questa parte segreta Della stazione Forse questa game station Si collega Con un'altra stazione ancora E quindi forse Su poppy playtime 3 Potremmo avere Una seconda stazione Differente Ma che roba Non vedo l'ora Che esca il terzo capitolo Per scoprire tutto Quanto si ma vuoi Quindi che dire Per il momento Direi di finire Qua il video Fatemi sapere Cosa ne pensate Spero che questo video Si vi è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti Compariranno ben quattro schede Con quattro serie differenti Cliccate ne una Buona visione Ci vediamo direttamente Di quelle serie Ciao a tutti E buon panino a tutti